Fregi bellissimi a costi bassissimi Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Continuiamo la nostra scoperta di modalità per creare dei freggi decorativi con budget veramente veramente limitati Il sole ci illumina in questo momento Le luci cambiano mentre faccio il video Ma vabbè Allora cosa abbiamo fatto la volta scorsa? I freggi con la carta igienica Oggi sapete come li faremo? Li faremo con la colla a caldo Vedrete che verranno fuori dei freggi versatilissimi da far aderire a tutte quelle superfici curve alle latte, ai vetri tutte quelle cose che tutte quelle superfici un pochettino più rustiche che non hanno bisogno di freggi di alta qualità ma che vogliamo comunque impreziosire, poter dipingere e decorare Prima di spostarci sul piano da lavoro vi ricordo che vi aspetto in tutte le librerie d'Italia con i miei due libri Il ricettario dell'arte Se vuoi imparare tutte le ricette fai da te, ma professionali per farti da solo tutti i materiali dell'arte i colori, medium, le vernici tutto ciò di cui hai bisogno per creare le paste modellabili bellissime è il grande libro del colore Se vuoi conoscere tutti i segreti dell'utilizzo, della formulazione del colore del significato del colore e del perché propendi per un colore piuttosto che per un altro Questo è un libro che ti darà anche la ricetta passo passo per creare tutte le tinte per la pittura cioè vuoi un verde particolare? Qui trovi la ricetta per fare esattamente quel verde lì E allora vi aspetto in tutte le librerie sia fisiche che online con i miei due libri entrambi editi dalla Gribaudo Bene, adesso basta parlare spostiamoci sul piano del lavoro e andiamo a creare i nostri freggi in colla a caldo Ed eccoci qui per creare i nostri freggi più facili del mondo per superfici anche che possono essere dure, lavate, vitre, metalliche tutte quelle superfici per cui i nostri freggi di carta sono troppo delicati questi sono quelli del video scorso che comunque guardate una volta totalmente asciutti quanto duri sono diventati questi possono essere anche piegati ma in fase di asciugatura quando sono asciugati a metà li andiamo ad alloggiare nel posto dove vogliamo che siano se è curvo e loro asciugheranno con una forma curva e quindi prenderanno la forma del nostro oggetto un po' come si fa con tutti gli stampi anche quelli in gesso se dobbiamo metterli su superfici tondeggianti vanno utilizzati quando non hanno completato l'asciugatura cosa diversa invece sono gli stampi che sto per farvi vedere che voi potete fare tranquillamente in piano rimangono relativamente morbidi e possono essere alloggiati su barattoli, latte quello che volete anche dopo molto molto tempo che li avete fatti quindi sono stampi universali che vanno su tutto prendiamo per esempio questo freggio cosa ci occorrerà? una forma, un calco di qualunque tipo potete usare questi che sono venduti per i freggi ma io per esempio utilizzo molto spesso anche quelli per i tappetini per i cioccolatini o gli stampi per muffin quelli a forma di rosa ci sono tante forme di stampi per muffin o per stampi da cioccolatini bene, questi tappetini possono essere usati l'importante è che siano stampi in silicone in pratica dopodichè ci occorrerà semplicemente la colla a caldo e la relativa stecca e iniziamo subito a creare i nostri freggi facilissimi allora riempiamo tutto il nostro freggio così abbondando anche di colla perché vi ricordo che essendo in colla a caldo potrà essere rifilato anche in un secondo momento mettiamo bene tanta colla è l'unica accortezza che dobbiamo avere dopo aver messo la colla senza star lì a toccare tanto il freggio perché possiamo bruciarci è quello di allargare e far penetrare la colla ovunque se vediamo che da qualche parte non è andata rimpinguiamo ed allarghiamo ok? e lei si depositerà voilà in tutti gli orefizi quindi chiudiamo allarghiamo facciamo entrare proprio la dobbiamo far mangiare al nostro calco la colla e adesso facciamo asciugare il calco in piano possiamo farlo come vi dicevo con qualunque tipo di calco quindi anche un calco così guardate così particolareggiato va benissimo vi faccio vedere qui è ancora sporco di resina perché questi per esempio sono calchi da resina cuccio dentro così accaduta la colla riempio bene tutto e mentre è ancora calda allargo per fare andare un po' dappertutto la mia colla ovviamente dappertutto ma non sulle dita ragazzi attenti a non bruciarli la metto bene batto per far uscire le bollicine e la lascio asciugare in piano facciamo le iniziali ok la M di mamma facciamo la O di ombretta è facile facciamo la B che ha i due buchini da colmare da lasciare liberi e allora verso la colla e poi facciamo la E di Enzo perché non è possibile che io faccia un video senza la E e senza la G io ne avevo fatto prima uno bellissimo questo qua guardate prima di cominciare il video vediamo se è venuto guardiamo come sformano oh sì che è venuto guardate che bello ora voi non riconoscerete la forma è un cameo è questo scusate è questo bellissimo cameo ora vi faccio vedere come faccio a farvi vedere la forma io vi dico dovete fidarvi è venuto proprio tutto tutto bellissimo vediamo avevo fatto anche la cornicetta questa la faccio sempre perché è un calco molto difficile voilà perfetta ecco questo è un tipico esempio vedete queste rimanenze di colla si prendono un paio di forbicine e semplicemente si ritaglia ma guardate gli rigori dove voglio quello che abbiamo fatto insieme è pronto ma diciamoli sì dai sformiamolo non è prontissimo ma ho fretta voilà guardate che bello non è che ho fretta ho curiosità ho fretta data dalla curiosità di farvelo vedere e le parti in più anche qui si ritagliano ma si ritagliano con una facilità vedete qui per esempio il ghirigoro è tutto coperto bene nessun problema con le forbicine lo ritaglio ben bene guardate quanto è particolareggiato ha proprio tutta la particolareggiatura del freggio origine dello stampo vediamo le letterine la M si è asciugata posso tirarla fuori voilà bella e pronta per essere applicata su qualunque superficie approfittiamo per farne qualcun altro di freggio certo come vedete stampi così larghi e grandi sono facilissimi da fare ok mi fermo qui e lo metto da parte ma posso fare anche prendo questo faccio questo qua questo tutto con i ghirigori e proviamo anche la nostra solita farfallina che facciamo in tutti i video vedete col beccuccio come cerco di andare in profondità è il momento di tirare fuori la nostra rosellina parte il fatto che lo stacco è immediato e voilà perfetta perfetta freggi in tre minuti faccio anche una conchiglietta questa qua che è piena di linette vediamo se viene i bordini diciamo così allargo e lascio asciugare proviamo questi freggi si già si staccano no vabbè perfetto uno e perfetto due questi per esempio su un barattolo vi faccio vedere ecco per esempio su un rotolo di cartigenica lo metto così lui si piega aderisce perfettamente e poi coloro tutto capito la bellezza di questi freggi sta proprio in questo nel poterli applicare e piegare in qualunque situazione ok e stanno su e tutto questo in cinque minuti ragazzi ci serve la conchiglietta vediamo se è pronta voilà anche lei rifiliamo leggermente i bordini dove sono andata dove ho esagerato con la colla cioè capite bene che in un attimo la conchiglietta è fatta quindi freggi più impegnativi freggi meno impegnativi ma comunque tutti perfetti con tanti particolari e allora io spero che questo video vi sia utile per le vostre creazioni su vetro cartone metallo perché tutte queste cose possono essere appiccicate o tramite sempre con la caldo o con i più comuni collanti bene pollice in su e condivisione ci vediamo subito dopo le foto ciao visto che belli e che bel effetto vengono con tutti i particolari e una volta colorati i chiaroscuri verranno fuori facendovi proprio mimetizzandosi come se fossero dei veri e propri stucchi in gesso e allora provate e nel frattempo venitemi a trovare su tutti i miei social gli altri i miei canali youtube ombretta e due cuori e una k il mio canale di lifestyle e l'altro di cucina che ho insieme al mio maritino Gabriele e poi su tutto il mondo social di arte verte tiktok instagram facebook ma soprattutto sempre qua per un prossimo video creativo da ombretta e da arte per te tutto alla prossima volta ciao